Dopo gara tra Real Potecora e Vis Fondi, un risultato che parla da solo 8 a 2 in favore della tua squadra, Valerio Montalto, sicuramente il migliore tra di voi, hai recuperato tanti palloni, addirittura hai realizzato anche una doppietta. Sì, sono contentissimo per il risultato, complimenti a loro che sono veramente una bella squadra, ritmi altissimi e adesso è rimasta un'altra partita. Ecco, proprio in quella partita si potrà assegnare il titolo di campione provinciale, voi avete tagliato il traguardo per primi nel vostro aggruppamento, adesso c'è da fare l'ultimo sforzo di questa stagione. Sì, speriamo noi, prima ci speriamo e ci crediamo, vogliamo vincere e regalare la stagioia al Presidente e alla società che se lo merita.